È stata una partita molto difficile, era un avversario molto forte, sicuramente nel palleccio di palla, che noi abbiamo sofferto tanto, però sapevamo che un momento arriva il nostro momento e quello l'abbiamo preso. Siete stati bravi ad aspettare, possiamo dire, ne parlavi anche tu, il momento giusto, primo tempo avete un po' studiato l'avversario, non è stato un bel primo tempo anche sul piano delle occasioni, poi nella ripresa quella sostituzione di Dionisi ha un po' spaccato la partita, è arrivato il gol di Maiello e poi nel finale il raddoppio proprio dello stesso giocatore. Sì, certo, non abbiamo fatto un buon inizio, però sapevamo che qualche volta noi dobbiamo tenere botta, ci sono tante squadre forti qua in questo campionato, quindi per noi era difficile, però abbiamo sofferto insieme e poi sì, dopo ce l'abbiamo la qualità anche che viene dalla panchina, Federico che ha fatto buonissimo oggi, anche altre, tutta la squadra e così noi possiamo aiutarci nei momenti difficili. Nicolás, mi dici che cosa vi ha detto Nesta all'intervallo, perché era una partita per voi molto complicata, se è vero che il Pescara non si era mai avvicinato alla vostra era di rigore, era altresì vero che voi avevate soltanto provato una conclusione con Beghetto, cosa vi ha detto Nesta all'intervallo? Lui ha detto che dobbiamo essere più calmo con la palla, di avere più personalità di giocare e anche qualche idea come dobbiamo uscire meglio, come dobbiamo apprezzare e questo abbiamo fatto meglio secondo me nel secondo tempo. Terza vittoria consecutiva dopo un inizio di stagione non positivissimo, questi risultati delle ultime settimane vi portano nelle zone alte della classifica, a questo punto con il Benevento che corre, l'obiettivo del secondo posto. Sì, è un momento molto buono per la società, soprattutto per i nostri tifosi che hanno sofferto tanto all'inizio della stagione, però siamo riusciti a tenere botta e a fare i risultati importanti e quindi con questa mentalità noi dobbiamo andare avanti. Buonasera Ariaudo, siamo con il difensore della formazione Ciociara, possiamo dire che per voi è stato un pomeriggio, per voi difensori del Frosinone, un pomeriggio di non grande lavoro? Ma no, no, c'è sempre a lavorare, anche quando non subisci tiri o ne subisci magari uno in porta, c'è sempre a lavorare, bisogna sempre stare attenti, soprattutto dopo una partita contro l'attacco più prolifico del campionato, se non sbaglio. Ti avete annullato per oggi? Sì, fortunatamente sì, abbiamo fatto una bella partita e siamo riusciti a chiudere la porta subendo zero gol. Hai detto l'attacco più prolifico del campionato, quello del Pescara, che per oggi si è presentato un po' a sorpresa, senza punte di riferimento. Vi aspettavate questa soluzione e dirlo sinceramente, vi ha anche un po' avvantaggiato, no? Ma loro sono... ma molte volte quando non è il punto di riferimento in attacco per i difensori è peggio, però alla fine facevano tante rotazioni, si muovevano molto, hanno tutti i giocatori fastidiosi con grossa tecnica, però li abbiamo annullati alla grande. È stata una partita non bella, Lorenzo, lo possiamo dire, anzi piuttosto brutta nel primo tempo, meglio nella ripresa, ne parlavamo anche con il tuo compagno di squadra AS, la sostituzione di Nesta, l'ingresso in campo di Dionisi, ha cambiato il volto di questa gara? Ma il primo tempo era un primo tempo ingiocabile, perché c'era un sole pazzesco che ogni volta che stoppavi palla ti faceva perdere uno o due tempi di gioco, quindi noi dovevamo aspettare, aspettare di finire il primo tempo 0-0, possibilmente di farne uno in ripartenza, ci siamo chiusi bene, non abbiamo concesso niente, poi il secondo tempo abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo fatto gol quando dovevamo farlo, Fede è entrato benissimo, sappiamo le sue qualità e l'ha dimostrato un'altra volta. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo perché questa per voi sarà una settimana molto importante, andrete a Benevento, due squadre che si incontrano spesso in Serie A negli ultimi anni, è il big match del campionato? Ma big match o no, ci sono tante squadre che lottano per le prime posizioni, Benevento ha fatto un po' di vuoto dietro di lei, però penso che sia una gran partita, noi l'affronteremo la settimana come affrontiamo tutte le settimane, sicuramente venendo da una vittoria l'affronteremo col sorriso, però concentrati e aspettandoci una battaglia.